Il Consiglio è un'altra cosa, l'elezione è una commissione elettorale. Ci sono due cose che sono sostanza democratica e sostanza politica. Partiamo di una dichiarazione di voto, un senso che dovete schiarare, dovete schiarare, non a trovare i delitti che ho il caldo. Partiamo con una notazione per stabilire, c'è il Consigliere Gianluca Luffetti e Fliti di una facoltà. Grazie Presidente. Innanzitutto, ciò che posso dire è che c'è una totale differenza tra la votazione del Presidente del Consiglio e quello che quando mi parla, non mi sono elettorato una. Per quanto riguarda la votazione del Presidente del Consiglio, ero in un totale accordo, con il invito a una telemetrica, ma che in questa propria vita, quando riguarda la votazione della Commissione del Consiglio, c'è anche il nome della Commissione del Consiglio, per cui si possa arrivare in un'invito in questa votazione. Quindi, come effetti, il Presidente del Consiglio, da quello che è andata davanti per quanto riguarda la votazione. Grazie. Allora, facciamo una votazione per chi è favorevole per vigniare, diciamo, la nomina della Commissione elettorale, che è favorevole per vigniare, che è contrario? Allora, la votazione a questo è dito, due favorevole per vigniare, tre vigni, mavolevole per vigniare, e non c'è la votazione. Prima votazione per i tre, certissima commissione, non per i tre, ui clubinatore lo blindatori, di nuovo. Si ricorda ai consiglieri di vogli avere un solo nome? Allora, Vincenzo Tartola, Monaco Giuseppe, Iogli Scendamolatore, Galluccio Viaggio, Grazie a tutti. Mariano Giovanni. La età ancora. Barroca. Grazie a tutti. Antonio Andrana, Cortese Chambra. Coluccio Marco. Il Dottor Stefano Ferraro. Il Dottor Stefano. 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 Grazie.